Da dove vieni e cosa fai? Favoro a Roma Cosa fai? In una società finanziaria Tu voti alle elezioni? Forse sì, penso di sì, alla fine sì È un dovere e un diritto E chi pensa di votare? No comment, il voto è segreto Conosci la riforma dell'area Voro di Renzi? No, so solo che vuole creare un contratto a tempo indeterminato graduale Che potrebbe casare un po' di problemi E tu che ne pensi? Allora, non ne so moltissimo Per quello che penso, penso che il lavoro sia un diritto di tutti Perché è la base per costruire qualcosa nella vita E quindi, poi sì